Il bali in trincea, ci prova il Cagliari, passa Zappa, Zappa con il cross, palla dentro Pavoletti! Pavoletti! Incredibile! Pavoletti al 94esimo minuto! Finisce la partita! Finisce la partita! Il Cagliari vince e torna in Serie A con il gol di Pavoletti al 94esimo minuto! Un finale incredibile! Gana il sipario su un campionato veramente incredibile!